Questa Australia ancora giovane, una terra ancora abbrada, un paese che è un paese evidentemente multietnico perché l'Australia ha un ceppo anglosassone però poi si è mescalato a tante altre realtà e che ancora deve definire con chiarezza la sua strada. E quindi l'incontro-scontro di questi due mondi apparentemente diversi ma che sì, io potrei raccontarvi il libro, potrei raccontarvi le storie, i colpi di scena ma vi consiglio di leggerlo perché non devo fare il riassunto del libro, devo dire quello che io ho percepito da questo libro. Quindi dall'incontro di questi due mondi che cosa si comprende? Si comprende che poi alla fine siamo tutti esseri umani e che esiste un nocciolo di valori sostanziali, il saper amare, il saper essere amici, infatti il protagonista Marco ha i suoi migliori amici non qui ma alle più diverse latitudini, ecco sono i valori fondanti della nostra civiltà e della nostra appartenenza. Vi ripeto è davvero un bel libro. Non mi aspettavo tante belle parole, sono assolutamente amazed da tutto quello che di buono hai detto su questo libro. Questo libro fondamentalmente nasce da una reazione emotiva, una reazione emotiva alla differenza fra due mondi, due mondi che possono sembrare opposti, in realtà abbiamo avuto un piccolo dialogo io e Gennaro l'altro giorno, abbiamo detto che la globalizzazione ha raggiunto tutto e tutto quindi si è appiattito, è vero, tutto è appiattito, oggi si può comprare qui in Australia o in qualsiasi altro paese del mondo un vestito, un paio di scarpe, è sempre la stessa cosa. Allora in un mondo così appiattito l'unica cosa di rilievo, l'unica cosa che andiamo ancora a cercare è che cosa sono le emozioni e i sentimenti e penso che in questo senso il libro appaghi chi è alla ricerca di un'emozione e di un sentimento perché l'unica cosa vera che ancora abbiamo è l'unico ponte che può unire paesi, mondi, persone diversi e io non avrei tanta... non farei delle difficoltà riguardo a questo, cioè non farei difficoltà di lingua, non farei difficoltà di religione, non farei difficoltà di sentimenti perché il sentimento è unificante, di fatto le emozioni sono di tutti e sono alla portata di tutti. Certo che ci sono dei personaggi nel libro e li ho aggiunti dopo quando la riflessione si è fatta più matura e quando forse anche magari in un momento di tristezza ho visto la realtà che il Veneto in questo momento sta vivendo, una realtà di crisi, una realtà di profondo disappunto per come le cose stanno andando. E allora ho inserito questo personaggio tristissimo secondo me e proprio per questo verissimo di questo Tredita che è un po' la guardia del corpo di Marco Cesari che è questo grande imprenditore che possiede Castelbrando, ovviamente traslato Castelbrando, all'inizio non era Castelbrando, all'inizio era un altro castello. Poi per un motivo anche di affetto e di amicizia che si è andata sviluppando con Ivana e con Massimo, ho detto sì io lo voglio ambientare qui perché è un posto talmente affascinante, mi ha preso talmente tanto che alla fine Castelbrando è diventata la casa anche del mio libro e del mio protagonista. Ma comunque quello che ci tenevo veramente e ci tengo tuttora a trasmettere con questo libro è questa sensazione di perdita e di arricchimento che c'è in tutti noi, si perde e si guadagna, la vita ti toglie qualcosa e tu togli qualcosa alla vita, tu togli un momento di criticità, togli un pizzico di razionalità, ti auguri un sentimento più sfrenato, alla fine è l'augurio sincero che faccio a tutti. Posso farti una domanda Gennaro? In quale personaggio ti sei più rappresentato? Ma non lo so, non saprei dire, forse nella peidanteria dell'ispettore di polizia australiano. Guardate, chi fa critica letteraria è portato sempre a derubricare i libri gialli, infatti c'è un'espressione che si dice Vabbè, quello è uno scrittore da romanzetto rosa, da romanzetto giallo, perché viene ritenuto un genere minore, anche se poi è un genere redditizio, perché poi Italo Calvino o Moravia hanno sognato gli incassi di Grishan o di Federic Forsythe o di Ken Follett, viene ritenuto un genere minore. Però questo libro, ripeto, proprio il discorso dei due piani di lettura, intreccia qualcosa in più, che poi riflettono la storia personale, la biografia, la vita dell'autrice, perché l'autrice è profondamente europea, veneta, italiana, però ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, in Australia. Quindi ha, come dire, quei dinamismi e quei meccanismi del mondo anglosassone. L'Australia appartiene al mondo anglosassone e il genere giallo è un genere molto apprezzato nella letteratura anglosassone. Però poi ha quei sedimenti, ha quelle incrostazioni, nel termine positivo del termine, che sono di noi europei, cioè l'avere una storia millenaria alle spalle. Sicuramente c'è un po' di tutto, come c'è un po' di tutto in tutti noi, però ci tengo ancora a dire e a sottolineare che questo è un romanzo di sentimenti. Prima ancora di avere un colpevole, prima ancora di avere una storia gialla, prima ancora di avere... è un romanzo che rispecchia e lì veramente mi ci sono adoperata, affinché questo fosse chiaro e ben steso nel romanzo, i sentimenti e le emozioni, perché è un dato che ci ha comune. Sì, questo sicuramente, però è importante anche il tratto della storia, lo scrittore a cui io mi sono dedicato a lungo con i miei studi che Prezzolini dice Un libro deve essere matter of fact, i fatti nella loro scarnificazione. Qua ci sono tanti colleghi giornalisti. Quando si comincia a scrivere si è sempre molto pindarici, molto così. Poi l'evoluzione della scrittura avviene quando uno riesce a scarnificare, ad avere a fare con la scrittura quella stessa operazione che facevano i grandi scultori tipo Michelangelo. Michelangelo sapete che prendeva un cubo di pietra e immaginava all'interno la forma che lui doveva andare a scoprire, per cui lui non creava, ma andava soltanto a togliere il superfluo e a raggiungere la forma. La scrittura, come diceva Prezzolini ma anche Montanelli, è togliere, 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 bisogna sempre togliere per arrivare all'essenza dei fatti, delle situazioni, perché sono i fatti e le situazioni a parlare. E quindi una critica che si può fare alla letteratura europea, segnatamente all'ultima letteratura italiana, è quella di volere troppo indugiare nella psicologia, nell'interiorità, nell'approccio freudiano dei personaggi. Invece una letteratura deve avere anche una storia, perché se non c'è una storia non si va da nessuna parte. La storia deve essere accattivante per il lettore e deve soprattutto presentare situazioni all'interno delle quali il lettore si può rivedere nella sua vita quotidiana. E questo libro c'ha questo pregio, perché c'ha una storia, c'ha una bella storia, con la sua dinamicità, con i suoi fatti, con la consecutio temporum di situazioni, con un nesso di casualità tra il piano A e il piano B e la successione, oserei dire, quasi cinematografica della storia. Infatti potrebbe diventare un ottimo film, però a tutto questo, alla successione dinamica dei fatti, accompagna anche una profondità dell'analisi dei singoli personaggi. Ma poi sono toccati anche argomenti di interesse globale, di interesse mondiale. L'Australia è un continente 25 volte più esteso dell'Italia, ha altre problematiche, ha fatto delle scelte non nucleari, e questo si riflette molto sul libro. Chiaramente la scelta è quella di progredire con l'energia eolica, l'energia solare e il carbone pulito. E quindi è in netto contrasto con tutto quello di cui si parla adesso. E poi devo dire che sono anche stata parecchio fortunata perché con un tempismo sciagurato, direi, la centrale di Fukushima esplosa e nel mio libro si fa proprio cenno al fatto che un diplomatico giapponese segnalò questo fatto al governo americano. Quindi devo dire che i temi toccati, come il tema dell'acqua per esempio, qui si parla tanto dell'acqua, del commercio dell'acqua, ma in realtà il commercio dell'acqua in astralia esiste già da un sacco di tempo, da un sacco di anni, almeno da una decina d'anni. Poi c'è anche la questione aborigeno e questo riguarda molto gli amici della delegazione Italia-Australia che la conoscono molto bene perché il problema aborigeno è come per gli indiani d'America, ancora molto sentito e quindi questo rappresenta un'altra piccola nicchia di realtà dentro una realtà. È come una sorta di matrioska, forse, possiamo leggerla in questa chiave magari. C'è un rapporto sano con la natura, c'è un'immagine bella nel filmato quando si vede quel pompiere, noi lo chiamiamo così, il vigile del fuoco. Il pompiere ha fatto il giro del mondo, il pompiere ha trovato il koala. Che dà all'acqua un piccolo koala e nel libro il koala è un personaggio che c'è perché a un certo punto si aggrappa quasi alla ricerca di un senso materno, il koala sapete che è quella specie di orsacchiotto, io così lo definirei impropriamente, che piace tanto ai bambini. Si aggrappa alla protagonista del romanzo come a cercare una mamma che lo potesse mettere in salvo dalle fiamme perché gli incendi è un tema ricorrente nell'Australia. E noi troviamo questo modo di vivere australiano molto essenziale, molto le donne portano gli stivali perché sanno che non si può andare in giro con le scarpe e con i tacchi perché ci sono i serpenti. Insomma c'è molto di questa vita australiana. Giusto per non dire che io devo parlare a tutti i costi bene del libro, per esempio io non sono d'accordo con la visione antinuclearista che emerge dai protagonisti del libro. Io sono un convinto, un iper convinto della necessità del ritorno al nucleare perché è facile quando si ha 60 milioni di abitanti su un territorio che è 25 volte l'Italia e si è produttore di petrolio, di cobalto, di uranio, ci sono i venti, ci sono i fiumi, c'è energia idroelettrica, è facilissimo dire che sono contro il nucleare. Anche in Norvegia ci sono 4 milioni di persone, settimi produttori al mondo di petrolio, hanno diamanti, hanno legno e tutto, anche loro sono contro il nucleare. Il problema è quando si è 63 milioni di abitanti su un territorio che è molto più piccolo e quando si ha un'economia eminentemente di trasformazione, cioè che trasforma le materie prime in prodotti e se bisogna di energia per sopravvivere allora il tema diventa un po' diverso. Poi a un certo punto uno dei personaggi lo dice pure, guarda che però al di là del confine ci sono le centrali svizzere, le centrali francesi, le centrali della Slovenia, quindi un eventuale incidente nucleare ci potrebbe colpire in pieno. Questo è l'unico punto sul quale non sono d'accordo con i protagonisti del libro. Ma questo l'abbiamo già chiarito ieri, in un'intervista abbiamo già pianificato il fatto che in Italia, in effetti in Italia non ci sono le risorse che ci sono in Australia, quindi i problemi devono essere affrontati con un'altra ottica e infatti la città verticale interamente sostenibile deve essere edificata in Australia e non in Italia. In Italia questo concetto non passerebbe mai, primo per una questione di spazio, e secondo perché non ci sono nemmeno i presupposti reali di persone che andrebbero a vivere in una città così. E tanto per continuare nelle critiche, forse il libro manca di una sottolineatura, quella di un certo egoismo della società australiana. Perché parlo di egoismo della società australiana? Perché l'Australia appunto è 25 volte l'Italia e ha 60 milioni di abitanti ed è un paese molto chiuso, cioè emigrare in Australia è praticamente impossibile, devi essere un premio Nobel per poter cercare ospitalità in Australia. Questo è molto vero. Questo è un paese molto, 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 molto chiuso, che però, che è consapevole delle sue ricchezze, ecco la grande ricchezza è questo equilibrio fra territorio e abitanti, che è l'equilibrio che vorremmo tutti quanti avere, che è consapevole di questa ricchezza si è chiuso al mondo esterno, ma non è chiuso nel senso di non essere aperto all'interscambio economico-commerciale, perché questo no, è chiuso nel senso di voler ricevere nuove popolazioni. Certo, non è soltanto chiuso, poi anche l'ambasciatore David Richie, l'ambasciatore australiano in Italia, si lamenta perché non vede dei solidi rapporti finanziari e industriali con l'Italia. Giustamente, come dicevi tu nell'intervista di ieri, se l'ambasciatore vuole dei rapporti di questo tipo, allora deve facilitare quella che è la movimentazione della gente dall'Italia verso l'Australia, cosa che in effetti nella realtà non succede. Sì, questo è vero. Quindi, a parte queste due sottolineature, il libro è comunque poi, un libro è fatto anche per far discutere, per far riflettere, quindi guai se si fosse completamente d'accordo con tutto quanto dicono i personaggi, con tutto quanto affermano. Quindi proprio per questo il libro va letto, anche perché diventa un'occasione di dibattito, di spunto e di riflessione. Bene, vuol dire che il secondo sarà perfetto. E il terzo? Ci conto. Per il Nobel. Solo per dirvi che adesso arriva Paolo e ci suona il capriccio numero 13. di Niccolò Paganini. Per chi è arrivato in ritardo, volevo solo ribadire il fatto che Paolo ha 14 anni. e insieme a tutti. Per chi è arrivato in ritardo, Per chi è arrivato in ritardo, a tutti i suoi metodi, e quindi, vedi la campagna, mi è arrivato in ritardo, la campagna, Grazie a tutti.